Ragazzi, preferireste essere autentici oppure apparire per ciò che non siete veramente? Nel caso in cui abbiate scelto la seconda opzione, questo video vi farà cambiare idea. Non ci credete? Rimanete con noi! Avete mai provato quella sensazione di avere in mano qualcosa che non vi appartiene? Ecco, è la stessa sensazione che dovreste avere con un prodotto contraffatto. Che si tratta di made in Italy o di prodotti provenienti da qualsiasi altra parte del mondo, gli impostori rimangono sempre impostori. Quante volte vi è capitato di desiderare qualcosa ma non avere la possibilità economica per averla? L'opzione più semplice apparentemente è quella di comprare un'imitazione dell'oggetto a prezzo più basso. Tuttavia, cercare di sostituire ciò che non ci si può permettere è un reato. Si tratta della contraffazione, ovvero la violazione di un marchio. Spesso ciò avviene tra i giovani per il desiderio di omologarsi ai loro coetanei. Questo però non comporta solo la perdita della propria originalità e l'acquisto di materiale scadente. Ma dietro i loro prodotti contraffatti c'è anche il duro lavoro di persone che vengono solamente sfruttate. Grazie. 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 Grazie.